Si intitola Mediterraneo, la 52esima edizione del Macerata Opera Festival, la quinta stagione sotto la guida di Francesco Micheli, in programma dal 22 luglio al 14 agosto 2016 all'Arena Sferisterio di Macerata. La stagione si inaugura con Otello di Giuseppe Verdi per la regia dello spagnolo Paco Azzorin. Seconda nuova produzione è Norma di Vincenzo Bellini, con la regia di Luigi Gigangi e Ugo Giacomazzi. Completa il cartellone Il Trovatore di Giuseppe Verdi, ripresa dell'applauditissimo spettacolo del 2013 ideato dal regista Francisco Negrin. Anche la direzione musicale è affidata a nomi di caratura internazionale. A dirigere Otello è Riccardo Frizza, grande esperto di repertorio italiano. Norma è concertata da Massimo Zanetti, anche egli del più apprezzati direttori d'opera italiani all'estero. Sul podio per Il Trovatore c'è Daniel Orenne, il direttore israeliano la cui fama trova riscontro nelle numerosissime produzioni che l'hanno coinvolto in questi anni. Orenne dirigerà le rappresentazioni del 31 luglio e il del 12 agosto, sostituito da Francesco Ivan Ciampa per la recita del 6 agosto. L'esecuzione musicale è affidata alla Fondazione Orchestra Regionale delle Marche e al coro lirico marchigiano Bellini. Di particolare rilievo artistico anche le voci di questa stagione. La stagione 2016 si inaugura venerdì 22 luglio con Otello e si conclude domenica 14 agosto. Sono quattro le repliche di Otello, tre di Norma e tre del Trovatore. Tre anteprime saranno dedicate ai giovani, quella del 18 luglio per Otello, del 19 luglio per Norma e del 28 luglio per Il Trovatore. Confermate le promozioni per gli Over 65 e per gli Under 30. I biglietti singoli sono in vendita dal 17 dicembre attraverso i canali abituali.